Ciao a tutti, nel video di oggi voglio parlarvi di una delle ICO più interessanti e più hypate del momento che è QuarkChain. A nostro avviso i motivi del successo che sta riscuotendo in questo periodo sono sostanzialmente quattro e io direi che poi andremo a vedere più nel dettaglio, sono il team che è sicuramente di livello veramente altissimo internazionale, l'hype che sono riusciti a creare, se andate a vedere sul canale Telegram sono quasi 100.000 iscritti che per l'ICO è veramente un record, e una token economic che poi vedremo nel dettaglio veramente da manuale e soprattutto un marketing proprio all'avanguardia nel mondo delle ICO. Ma andiamo a vedere appunto il sito e cerchiamo di capire quali sono questi quattro, come sono strutturati questi quattro parametri essenziali. Innanzitutto, se andiamo sulla spreadsheet, vediamo che si piazza a 96 punti, che è forse uno dei punteggi più alti. Poi vedremo le token economics, ma se noi andiamo sul sito, innanzitutto capiamo che guardando appunto la roadmap, la timeline, che diciamo un testnet è già stato lanciato, nel senso che l'ICO ha dato la possibilità a chi voleva di registrarsi per poter verificare questa beta version del loro MVP. Il loro tentativo sostanzialmente, poi lo vedremo, è quello di creare una blockchain che permetta un milione di transazioni al secondo. Questo testnet, diciamo, non raggiunge queste velocità, però comunque ha già delle velocità ragguardevoli e chi vuole appunto, chi voleva, poteva appunto testarlo. Quindi possiamo dire che hanno un prototipo che, come sapete per noi, è di fondamentale importanza nelle ICO. La seconda cosa, diciamo, che secondo noi è veramente fondamentale, che può appunto dare, garantire un discreto successo all'ICO stessa, è il team. Se partiamo appunto dal fondatore principale, nonché CEO della, diciamo, della ICO, che tra l'altro io ho sentito parlare in alcuni video ed è veramente una persona proprio veramente in gamba, se noi andiamo a vedere il suo curriculum ci rendiamo conto che è veramente di tutto rispetto. Come potete vedere ha lavorato un anno come ingegnere del software a Facebook, ha lavorato alla Dell, ha lavorato comunque anche a Google e poi altre collaborazioni minori, quindi direi assolutamente un all-star. Oltre al CEO ci sono altre figure piuttosto interessanti. C'è, diciamo, l'ingegnere del software, che è questo Wang, che appunto se andiamo ad analizzare il suo curriculum ci rendiamo conto che anche lui è decisamente uno star. un anno e due mesi a Facebook, quattro mesi a Instagram, cinque anni addirittura come ingegnere senior a Google, e poi, vabbè, questa è una collaborazione all'inizio comunque con AT&T. Come se non bastasse, sono affiancati da questa signora che, se andiamo a vedere bene, è, diciamo, una figura di livello universitario, quindi è professore associato alla Georgia Institute of Technology. Questo, secondo noi, è il mix migliore, perché se affianchiamo delle figure con esperienza nel mondo imprenditoriale e web in genere, ha poi delle competenze di questo tipo a livello universitario, diciamo, il gioco è fatto. Come se non bastasse, c'è questa figura, che è la Xiang, che è, diciamo, il direttore marketing e community, e poi vedremo che, appunto, il marketing è veramente uno degli aspetti fondamentali di questa ICO. Se andiamo ad analizzare il suo curriculum, curriculum, ci rendiamo conto che anche lei è uno star, ha lavorato per Wish, Bepi, ha lavorato per undici mesi come marketing a LinkedIn e altre collaborazioni minori. Comunque, direi decisamente uno star. Dopo vedremo il marketing e vi renderete conto che questa persona, appunto, sa fare proprio il suo mestiere. Dicevamo, appunto, oltre al marketing, un'altra cosa fondamentale è l'hype. Se noi prendiamo il canale Telegram, ci rendiamo conto che sono più di 86.000 membri e questo è veramente, vi posso garantire un record per quanto riguarda le ICO. Altro aspetto è la token economics e qui ritorniamo alla nostra spreadsheet. Fondamentalmente la token economics, secondo noi, è veramente da manuale, nel senso che distribuiscono il 65% dei token e questo è veramente molto buono, come potete notare, le altre ICO di solito distribuiscono meno. Hanno un hard cap, nonostante il progetto veramente molto ambizioso, tranquillamente raggiungibile, dei bonus contenuti, il team si impegna poi a, diciamo, tenere per tre anni i token e questo è sinonimo veramente di grande serietà, cioè sta ad indicare che i token che vengono utilizzati per retribuire il team poi sono bloccati, vestati in gergo, cioè non li possono rivendere prima di un determinato periodo. Più lungo è questo periodo e più serietà c'è nell'ICO stessa. I token invenduti, ma io suppongo che saranno, che non ci saranno, diciamo, comunque, in teoria se ci dovessero essere, verranno bruciati. Il prezzo è bassissimo e la total supply è abbastanza alta, quindi ha delle token economics che secondo noi sono veramente perfette. Detto questo, parliamo poi, secondo noi, dell'aspetto proprio più interessante, diciamo, di questa ICO. Poi vedremo anche di cosa si tratta. Comunque, lo sforzo che hanno fatto e diciamo ci hanno messo veramente un lavoro proprio consistente è quello di creare una sorta di community attorno al token, nel senso che per poter partecipare alla vendita non è sufficiente fare solamente la KYC come per tutte le altre ICO, ma bisogna superare una serie di parametri. Cioè, adesso non vi sto a spiegare nel dettaglio se poi avete delle domande potete tranquillamente venire nel canale e vi spiego nello specifico. Però fondamentalmente danno una serie di punteggi in base a la permanenza, diciamo, la timestamp di iscrizione al loro canale Telegram, poi un quiz che partirà oggi e in base a come diciamo il possibile investitore risponde al quiz ottiene un altro punteggio e poi l'ultima sezione l'ultima sezione che è quella di produrre dei contenuti cioè dare diciamo certificare inviare a loro dei contenuti che sono stati prodotti per promuovere il progetto. Questo è un approccio che è stato a mio avviso mutuato un po' da altre ICO direi metronome la più la più famosa cioè il tentativo di creare proprio una vera e propria comunità attorno all'ICO e questo per poter diciamo legare più di più possibile gli investitori al token ed evitare che poi ci sia diciamo una liquidazione una liquidazione esasperata quando questi vengono in stati. Questa secondo me è un po' la tendenza del mercato nell'ICO in genere e vi renderete conto nei prossimi mesi che in parere personale però sempre più ICO usciranno con questa tipologia di prodotto di modo di proporre l'ICO vediamo però un secondo al volo di cosa si tratta di qual è lo scopo principale di questa Quark Chain fondamentalmente e questo è un problema molto sentito Quark Chain vuole risolvere innanzitutto Quark Chain è una blockchain è una blockchain che si basa sullo sharding e poi cercheremo di capire velocemente cos'è però sostanzialmente vuole risolvere tre problemi che sono attualmente diciamo molto molto sentiti e molto dibattuti in rete che sono la decentralizzazione ovviamente questo lo sappiamo la sicurezza anche della blockchain ma soprattutto la scalabilità il network di Ethereum che è diciamo attualmente quello di riferimento dove si appoggiano tutte le principali ICO ed è comunque la moneta dopo Bitcoin più importante ha comunque dei problemi notevoli di scalabilità nel senso che con sempre più sempre più DAP e diciamo ICO e coin che vengono appoggiate sul suo network ovviamente denota dei problemi di rallentamento proprio della velocità di esecuzione Quarkchain vuole proprio entrare in questo settore vi volevo far vedere un'altra cosa se la trovo questa è la white paper quindi vi consiglio se poi la prendete in considerazione di andare comunque ad analizzarla in maniera in maniera accurata ok ecco qui parla velocemente dello sharding sostanzialmente adesso io non sono un tecnico informatico quindi non vi so dare una spiegazione dal punto di vista tecnologico così approfondita però quello che vi basta sapere è che fondamentalmente Quarkchain fonda la sua blockchain il suo sistema sullo sharding e cioè c'è una root chain che è una diciamo una chain tipo Ethereum sulla quale poi vengono appoggiate altre blockchain che sono chiamate shard blockchain o sharding il sistema cioè sovrappongono ad una blockchain che ha comunque una velocità piuttosto ristretta tipo quella Ethereum delle altre blockchain decisamente più veloci e questo ovviamente va ad aiutare parecchio in termini di scalabilità velocità sicurezza e anche la quantità di volume di dati che possono essere appoggiati a una blockchain tornando al sito ecco qui c'è un video che vi consiglio di vedere per farvi un'idea però molto velocemente ecco questo riassume un po' tutte le potenzialità di Quarkchain ecco il Bitcoin si muove a 4 TPS che sarebbe transaction per second cioè 4 transazioni al secondo Ethereum arriva a 10 dove Visa per esempio la carta la carta di credito la compagnia Visa è a 65.000 transazioni per secondo quindi vi rendete conto che sia Bitcoin che Ethereum hanno dei notevoli hanno una strada piuttosto consistente da fare per raggiungere un numero diciamo decente di transazioni per secondo ovviamente siamo ancora un po' tra virgolette agli albori della tecnologia quindi questo numero di transazioni sono attualmente sufficienti ma con gli anni e si stima che soprattutto gli smart contract aumenteranno in maniera vertiginosa già alla fine di quest'anno il network Ethereum potrebbe avere dei problemi già bootering si sta muovendo per cambiare l'algoritmo eccetera sono già accorti che questo può essere un problema però stanno nascendo e nasceranno sempre più ICO proprio che tentano di risolvere questo problema nello specifico e Quark Chain vuole arrivare a un milione di transazioni per secondo quindi direi è un obiettivo molto ambizioso però ecco già il testnet comunque mi sembra che viaggi a 45.000 quindi e contano di arrivare con il lancio del mainnet a questo famoso milione ecco questa è una panoramica piuttosto veloce e sicuramente non esercitiva di Quark Chain che secondo noi è una delle ICO del momento non sarà facile parteciparvi però comunque è una coin è un ICO che vi consiglio di tenere d'occhio per poi poter entrare eventualmente in un secondo momento nella coin infatti questo grande battaggio di marketing e tutto questo sistema questa community che è stata diciamo creata attorno al token farà sì che il prezzo tenga a nostro avviso piuttosto bene nel tempo quindi se non riuscite a partecipare all'ICO comunque potrebbe essere interessante entrare nel token in un secondo momento bene spero che questo video vi sia piaciuto e se è così mettete un mi piace e iscrivetevi al canale qui sotto comunque trovate il link al nostro canale Thomas Crypto Alerts dal quale potete chiedere accesso per la spreadsheet vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video ciao e grazie